Musica Santa Arsenio, conferenza stampa del gruppo Rinascita Civica dopo la sospensione del Consiglio Comunale. Musica Riforma BCC, Michele Albanese, protagonista della rivista finanziaria di iFin, nello speciale Banche e Territorio. Lago Negro, ieri presentato il libro Il contrario della paura, di Franco Roberti. Polla, presso l'ex convento dei Cappuccini, inaugurata la comunità alloggio per minori rifugiati. Sant'Arsenio, questa mattina presso l'Ipseo, a seconda edizione del concorso gastronomico Profumi e Sapori della Tradizione Campana. L'evento è patrocinato da Banca Montepruno e Associazione Cuochi Salernitani. Buonasera, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura parliamo di politica, andiamo a Sant'Arsenio. Come è annunciato il gruppo Rinascita Civica, ieri ha incontrato la stampa allo scopo di tracciare un bilancio della sua attività amministrativa. Dopo lo scioglimento avvenuto a seguito delle dimissioni di sei consiglieri comunali. Inoltre, nel corso della conferenza stampa sono stati anche analizzati i fatti che hanno poi condotto allo scioglimento del Consiglio Comunale. Vediamo. Ieri sera a Sant'Arsenio c'è stata la conferenza stampa del gruppo Rinascita Civica guidata da Antonio Coiro dopo la sospensione del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni contestuali di sei consiglieri comunali. Presso Palazzo Fiordelisi, il gruppo dell'ex maggioranza ha voluto incontrare gli organi di stampa per cercare di far chiarezza su quanto accaduto e per spiegare le loro ragioni ringraziando comunque i cittadini che li hanno sostenuti. E' un nutrito gruppo di cittadini, infatti, ha partecipato e interessato ad ascoltare le ragioni del gruppo. A prendere per primo la parola l'ormai ex sindaco Antonio Coiro, che ha tracciato un breve ma ben articolato bilancio dei circa due anni e mezzo di amministrazione. Parlando di ciò che è stato fatto, ma soffermandosi soprattutto sui passaggi che hanno poi condotto alla caduta della sua amministrazione ritornando anche sulla vicenda legata alle sue dimissioni. Inevitabile il passaggio legato all'approvazione del bilancio, in cui, secondo quanto affermato da Coiro, pur mancante di un fondo derivante dalla rinuncia delle indennità di cariche e destinato a spese straordinarie, era stato approvato dalla stessa maggioranza. Antonio Coiro è tornato anche sulla vicenda della delibera destinata alle concessioni dei lotti alla società Biometano ricordando che il tutto è avvenuto dopo aver preso visione dei pareri favorevoli degli enti preposti alla tutela dell'ambiente e dopo aver accertato che un eventuale impianto di Biometano non avrebbe arrecato alcun danno. A ciò si aggiunge anche che la delibera era necessaria in quanto era trascorso quasi un anno dalla delibera di consiglio votata peraltro da due dei tre consiglieri dissidenti. Coiro non ha mancato di attaccare il gruppo di opposizione PD in merito proprio all'appartenenza al Partito Democratico rivendicando il diritto di essere riferimento del partito a Sant'Arsenio anche a seguito delle preferenze del sostegno dato alla lista De Luca alle scorse elezioni regionali oltre che alle preferenze espresse nell'elezione del presidente della provincia da parte dei suoi consiglieri. La conferenza stampa ha visto gli interventi anche di tutti gli altri membri del gruppo partendo da Anna Maria Mazzariello che non ha nascosto una certa emozione nel dover descrivere quanto fatto durante i due anni di amministrazione i numerosi progetti su cui aveva iniziato a lavorare che purtroppo, visto quanto accaduto, non potrà vedere realizzati. Asilo nido, mensa scolastica, accordi con le scuole, sportello caffa, accreditamento servizio civile che fino ad ora veniva realizzato in collaborazione con altri comuni e poi iniziative a sostegno degli anziani e dei giovani. Rammarico anche da parte dell'ex presidente del consiglio Alfonso Cesarano duro invece l'intervento di Nicola Del Negro che ha attaccato in particolare tre consiglieri dissidenti ripercorrendo il loro lavoro in consiglio comunale. Per Del Negro i tre consiglieri sarebbero distinti solo ed esclusivamente per la presentazione delle dimissioni dal notaio e il gruppo di disveglio civico sarebbe vittima di inciuci. Nel suo lungo discorso l'ex assessore è poi passato a rivendicare le azioni che invece ha realizzato il gruppo guidato da Coiro riferendosi in particolare alla riapertura della palestra e delle numerose attività aperte. I lavori per la piazza che secondo quanto riferito prevedevano la totale chiusura alle auto dell'intero spazio e senza marciapiedi problema a cui è stata trovata soluzione successivamente proprio dall'ex amministrazione Coiro. Inoltre ha anche parlato dei progetti che volevano realizzare e che lo stesso assessore spera di poter fare in una nuova esperienza amministrativa. Idea questa da cui si è dissociato l'ex sindaco Antonio Coiro che ha chiaramente fatto intendere di non avere alcuna intenzione di ripresentare una sua candidatura. A chiudere la conferenza stampa è stato l'ex consigliere Nicola Maccapane che ha soprattutto ricordato il lavoro svolto dal gruppo guidato da Coiro per risanare problematiche create dalla precedente amministrazione guidata da Nicola Pica. A Maccapane ha parlato dei mutui con rate annuali di scadenze dei mutui rinegoziati previsti nel 2040. Una spesa che è diventata anche più difficile da sostenere a seguito della riduzione dei trasferimenti dallo Stato. Nonostante tutto Nicola Maccapane ha elencato i numerosi progetti realizzati inoltre un passaggio anche sulle opportunità che si rischiano di perdere a seguito della caduta dell'amministrazione. Al termine è stato comunque ribadito dal gruppo dell'ex amministrazione comunale che sono pronte ad un confronto pubblico con i dissidenti e con la minoranza. E dopo la conferenza stampa l'ormai ex sindaco Antonio Coiro si è intrattenuto per brevemente con i giornalisti rispondendo alle loro domande. Dalle sue risposte è emersa chiara la volontà di non ricandidarsi alle prossime elezioni. In effetti il senso di questa mia dichiarazione è che se noi dovevamo rispondere a quello che la popolazione ci aveva affidato, cioè il cambiamento, un segnale di discontinuità rispetto alla passata amministrazione e poi tu fai cadere questa amministrazione mettendoti d'accordo con quelli della passata amministrazione abbiamo preso in giro gli elettori. Ho sbagliato tante cose ma chiaramente non sul piano politico. Ho sbagliato a mettermi a capo di una lista che non era coesa e che non ho costituito io. I miei consiglieri non li ho scelti io, mi hanno chiamato per fare il capolista. L'ha detto anche Nicola Del Negro. Loro avevano già costituito una lista, hanno ritenuto che io potessi essere il capolista e l'ho fatto. Probabilmente ho sbagliato. E invece la sua soddisfazione in questi due anni e mezzo di mandato? La soddisfazione in particolare no, nel senso che la soddisfazione è con la mia coscienza che ho dato quello che potevo. Il resto non potevo darlo, però non mi sento in colpa con me stesso. Mi sono messo a servizio della comunità e è andata così, pazienza. Cambiamo un argomento, torniamo a parlare della riforma delle BCC. La nota rivista finanziaria italiana ha dedicato un'intera pagina alla Banca Montepruno e ha il suo ruolo sul territorio nella sezione speciale Banche e Territorio. Michele Albanese, rilasciando questa lunga intervista, ha spiegato qual è il ruolo che fino ad ora, fino a prima della riforma delle BCC, la Banca Montepruno ha rivestito sul territorio e cosa accadrà dopo la riforma. Il direttore della Banca Montepruno Michele Albanese è protagonista della nota rivista finanziaria di AIFIN, Associazione Italiana Financial Innovation. La rivista si è affidata alle parole al pensiero del direttore Albanese per trasmettere quelli che potrebbero essere gli effetti per il futuro delle BCC di questa riforma del credito cooperativo deciso dal governo Renzi. Effetti che lo stesso Albanese, nella sua intervista, dichiara di difficile previsione. Il direttore della Banca Montepruno analizza la riforma senza nascondere le titubanze connesse alla creazione di uno o più gruppi bancari che dovrebbero essere coordinatori di tutte le attività bancarie delle BCC. Nell'intervista ha evidenziato il forte legame che le banche di credito cooperativo, prima casse rurali, hanno da sempre con il territorio su cui operano. Michele Albanese, nell'intervista, ha ripercorso la storia dell'Istituto di Credito di Roscigno, Nato nel 1962, dal sacrificio e dalla propensione al risparmio di 30 persone che si sono riunite per dare vita a questo istituto bancario con l'obiettivo di dare sostegno alle attività di qualsiasi genere poste in essere per uno sviluppo completo della comunità. Iniziative a cui la Banca Montepruno, nel corso dei suoi oltre 50 anni di storia, non si è mai sottratta. Ora però, quale sia il futuro del credito cooperativo e come è stato ridisegnato, porta ad una notevole fase di incertezza. È inutile nasconderlo, si legge nell'intervista rilasciata da Michele Albanese per la sezione speciale Banca e Territorio. Viviamo un momento delicato dove non è facile fare previsioni sul futuro e sulle strategie. Siamo da due anni impegnati e stiamo lottando affinché da questa riforma possano emergere elementi in grado di non stravolgere il ruolo delle BCC sul territorio. Nell'intervista albanese, oltre a ricordare la stretta connessione che esiste tra banche di credito cooperativo e territorio, ricordando anche l'importanza che le BCC rivestono soprattutto nelle aree del meridione d'Italia, dove rivestono un ruolo sempre più importante per consentire un'economia territoriale, sottolinea anche come l'area di competenza della Banca Montepruno, oggi vede l'istituto di credito un fondamento per gran parte delle attività, progetti e iniziative che vengono promosse per cercare non solo di raggiungere uno sviluppo confacente alle possibilità del territorio, ma addirittura per mantenere in vita un territorio troppo spesso privato di aiuti essenziali come la viabilità. Abbiamo costruito, spiega albanese nell'intervista, una vera e propria strategia di sviluppo dietro il concetto di banca di comunità. In merito alla riforma, sottolinea, siamo fiduciosi ma allo stesso tempo preoccupati. Ci spostiamo ora a Lago Negro, è stato presentato ieri mattina il libro scritto dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti dal titolo Il contrario della paura. Sono intervenuti, oltre all'autore del libro, anche Oreste Lopomo, coaporedattore RAI 3 Basilicata, Vittorio Russo, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro, Gherardo Cappelli, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro, Pasquale Mitidieri, sindaco di Lago Negro, Nicola Timpone, direttore della Cittadella del Sapere. Per noi a seguire l'evento c'era Pietro Cusati. Accoglio un po' pensieri sparsi e idee maturate nel corso di una lunghissima esperienza di investigazione giudiziaria, innanzitutto contro le mafie e poi anche contro il terrorismo. Ma l'occasione è stato l'attentato di Parigi nel novembre del 2015, quando mi resi conto che fosse il caso di dire qualche cosa su questo tema del terrorismo, dell'immigrazione, delle sfide che abbiamo davanti, terrorismo, immigrazione, criminalità organizzata, anche per combattere la paura, che è un sentimento naturalissimo e quindi che prende tutti più o meno, ma che deve essere combattuta, appunto deve essere, se possibile, bisogna fare in modo che non ci condizioni nelle nostre scelte, nelle nostre scelte di vita, nelle nostre decisioni, perché altrimenti perdiamo la libertà. Se non avessi avuto anche nel 2015 l'attribuzione di competenze in materia di terrorismo, forse il libro non l'avrebbe proprio scritto. L'ho fatto soprattutto per parlare di terrorismo e di immigrazione, che è un fenomeno diverso naturalmente dal terrorismo, ma di cui si parla dell'immigrazione spesso in associazione con il fenomeno terroristico per le preoccupazioni che nascono dalla possibilità che nei fenomeni migratori si nascondano anche esponenti del terrorismo internazionale. Sì, la verità è l'antidoto alla paura, perché se noi conosciamo le cose come stanno, senza che venga nulla taciuto, allora sappiamo che cosa abbiamo di fronte e possiamo organizzare meglio anche la nostra risposta. La crescita democratica di una società, di tutte le società, si deve fondare sulla verità e quindi è su quel rapporto di fiducia fondato sulla verità che deve esserci tra le istituzioni e i cittadini. I cittadini devono avere fiducia nelle istituzioni, sapere che le istituzioni operano per il bene comune, ma naturalmente le istituzioni devono meritare questa fiducia. È quello che io cerco di dire in questo libro. Chi non ha paura è un uomo libero. Sì, chi non si fa condizionare dalla paura è un uomo libero, perché ripeto, la paura è un sentimento umano che più o meno assale tutti in momenti della vita. L'importante è non farsene condizionare. Questo lo diceva già Giovanni Falcone tanti anni fa e io molto più sommessamente lo ripeto adesso. Credo che Roberti sia la persona giusta perché lui è sempre stata una persona che ha creduto molto nella integrazione tra le forze dell'ordine, tra le forze sane del paese per combattere poi la criminalità organizzata e quindi è una presenza importante e del resto anche il libro che ha scritto è in quella direzione, cioè un impegno civile forte poi da parte di chi ha vissuto tutta la vita poi in prima linea per combattere sia le mafie che la criminalità eversiva e terroristica. Torniamo ora a parlare del progetto Città Vallo di Diano perché se ne discuterà ancora una volta con gli studenti. Domani l'Istituto Pomponio Leto di Teggiano parlerà proprio nel corso dell'Assemblea studentesca della proposta di legge per l'istituzione del Comune Unico Città Vallo di Diano. la proposta di legge che al momento è in discussione in Regione Campania. Presenti all'incontro saranno il dirigente scolastico Rocco Colombo che dopo i suoi saluti introdurrà anche gli interventi di Don Gabriele Petrocelli, vicario della Forania Teggiano-Sala Consina, Nicola Di Novella naturalista e Carmelo Bufano, primo firmatario della proposta di legge. E andiamo ora a Polla dove ieri sera è stata inaugurata la comunità alloggio per i minori rifugiati non accompagnati. Presente anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca e il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi. Ieri sera presso l'ex convento dei Cappuccini a Polla è stata inaugurata la comunità alloggio per i minori rifugiati non accompagnati che sono giunti al porto di Salerno la scorsa estate. Presso la comunità, gestite dalla cooperativa sociale e l'opera di un altro, risiedono 16 minori stranieri non accompagnati provenienti da Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Togo e Senegal e sono di età compresa tra i 13 e i 17 anni. All'inaugurazione erano presenti, oltre ai sindaci del territorio, il procuratore capo della Repubblica di Lago Negro, il dottor Vittorio Russo, il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca e il prefetto di Salerno, il dottor Salvatore Malfi. La provincia di Salerno, come il nostro paese, è fondamentalmente un strutturo, un territorio che per cultura, per spirito è accogliente. Ma l'accoglienza non deve essere soltanto un sentimento umano, deve essere anche un modo per consentire sicurezza e sviluppo per il nostro territorio. attraverso i percorsi di integrazione nel nostro ambiente e noi dobbiamo accogliere per rendere più sicuro questo territorio e farlo sviluppare e trasformare quello che è un potenziale problema in una ricchezza per il nostro territorio. Questo lo si fa in primo luogo con il cuore, ma anche con la lucidità che chi ha la responsabilità pubblica delle cose, quindi incominciando dai sindaci e tutti gli altri attori sociali, possono avviare i percorsi che devono essere di fraterranza, di solidarietà, di comunità, ma anche di far crescere le regole le nuove persone che si affacciano sul nostro territorio. Atteniamo un altro tassello all'accoglienza, quindi alla solidarietà. C'è a Polla, è molto presente l'accoglienza, anche se è di solidarietà. Basta pensare che noi teniamo già un altro progetto finanziario dell'Università degli Interni, quindi ospitiamo 35 giovani rifugiati o richiedendo asilo politico, i quali si sono ben integrate nel tessuto sociale, hanno svolto dei tirocini formativi presso l'azienda, alcuni con il Comune facendo il lavoro di pubblica autorità, molto apprezzate dai cittadini. E presso il Convento abbiamo pensato, proprio per continuare questo spito di solidarietà e solidarietà verso chi ha bisogno di ospitare 16 ragazzi, 16 minori non accompagnati. Stasera inauguriamo la struttura, una struttura bellissima con tutti i convorti, in modo che questi ragazzi si possano sentire come a casa loro. Raccogliamo la sfida lanciataci dal Comune di Polla di riutilizzo di un ex-convento, nello specifico ex-convento Cappuccini di Polla, per fini sociali. In questo caso una comunità alloggio per minori, stranieri non accompagnati sbarcati nei mesi scorsi presso il porto di Salerno, che sono stati affidati alla nostra cooperativa, la cooperativa sociale dell'Opera di un altro, dal Comune di Salerno, titolare dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati giunti nella nostra regione. Ringraziamento mio personale, ma anche della Caritas diocesana, per la solidarietà, l'accoglienza e la protezione che la realtà territoriale, insieme a tutti gli attori, sta mettendo in campo per l'accoglienza di tutti questi minori che sono giunti in Italia attraversando, ricordiamolo, il deserto, ma anche il mar Mediterraneo. Il Comune di Padula aderisce alla campagna di prevenzione promossa dall'Aslo di Salerno per avvicinare il sistema dei servizi e gli operatori delle comunità locali del vasto territorio provinciale e conseguire così specifici obiettivi di incremento di adessione agli screening oncologici e di coperture vaccinali. Per raggiungere tale scopo, domenica 4 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18, in piazza Umberto I a Padula, sosterà un bus dell'Aslo di Salerno quale punto di contatto itinerante e spazio fruibile dei cittadini di Padula. Infatti Padula si inserisce nelle 21 giornate della campagna previste in tutto il territorio della provincia di Salerno per informare e sensibilizzare riguardo all'offerta assistenziale dell'Aslo puntando l'attenzione in maniera particolare sulla prevenzione. E andiamo ora a Sala Consilina dove sabato scorso l'Associazione Lions Club Sala Consilina a Vallo di Diano ha presentato il progetto Patologie osteoarticolari nella pratica clinica evidenze, esperienze e prospettive Dopo i saluti del presidente del Lions Club Walter Nicodemo di Vincenzo Santini di Felice Grande è intervenuto il dottor Crescenzio Bentivenga dirigente medico di medicina interna e reumatologia dell'Università degli Studi di Bologna A seguire per noi l'evento c'era Pietro Cusati Vediamo Vogliamo dare soprattutto informazione e conoscenza sulle malattie in particolare reumatologia che tratteremo questa sera con un noto professore dell'Università di Bologna professore Crescenzio Bentivenga organizziamo questo bel service insieme agli altri club di Deggiano Polla e di Padula Certosa a segno dell'unità della nostra associazione quindi cercheremo soprattutto di circoscriverlo per la sua importanza di mettere a conoscenza quali sono i veri limiti di questa malattia E con grande gioia che sono qui stasera a onorare questi club di Deggiano Pollatana di Padula Certosa di San Lorenzo e soprattutto di Sala Consilina a Vallo di Diano che ci ospitano perché sono una splendida realtà sul territorio I Lions sono cittadini attivi il nostro governatore Renato Riveccio è tra i promotori della legge sulla cittadinanza attiva della regione Campania che vede proprio i Lions affiancati alle istituzioni e soprattutto i Lions attenti ai bisogni della comunità per soddisfarli e realizzare quello che normalmente non si riesce a fare ed è bello stasera che si parla qui di sanità si parla di innovazione si parla di quello che si può fare bravi a questi club bravi ai presidenti e soprattutto grazie a voi che partecipate e che ci aiutate nella divulgazione è una patologia è una patologia soprattutto molto comune e assolutamente emergente e anche per ragioni non strettamente legate all'apparato osteoarticolare nel senso che questo tipo di paziente in particolare chi soffre di malattie infiammatorie generalmente sconta un rischio cardiovascolare superiore ai soggetti non affetti quindi parliamo di malattie particolari come l'artrite reumatoide ma anche soprattutto per esempio dell'artropatia gottosa che è anche un'altra patologia aggravata per l'iperuricemia anche di un rischio cardiovascolare importante così come altre problematiche legate per esempio all'osteoporosi e alle sue complicanze in particolare alle fratture di femore che effettivamente risultano predittive di un accorciamento reale della vita media e ora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie restate con noi bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo a Sant'Arsenio dove questa mattina l'associazione cuochi sale Arnitani anche quest'anno è tornata nel Vallo di Diano proprio presso l'istituto professionale per i servizi enogastronomici e di ospitalità alberghiera Sacco di Sant'Arsenio dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno il dirigente scolastico Cono Alberto Rossi grazie anche all'importante sostegno alle sue iniziative giunto dalla Banca Montepruno e con la disponibilità dell'associazione cuochi salernitani questa mattina ha riproposto il concorso gastronomico profumi e sapori della tradizione campana allargando la partecipazione ai istituti scolastici provenienti da tutta la regione Campania gli studenti hanno presentato questa mattina i loro piatti grazie ad esperti cuochi che li hanno giudicati un progetto e un'esperienza importante per tutti gli allievi dei diversi istituti partecipanti resa possibile grazie al sostegno della Banca Montepruno che ancora una volta si è mostrata vicina ai giovani e ha investito sulla loro crescita professionale la giornata è iniziata con un convegno sul tema della valorizzazione dei prodotti tipici del territorio attraverso le professionalità dell'enogastronomia a seguire poi il concorso grande festa poi questa sera presso il ristorante Poundore dove saranno proclamati i vincitori del concorso con l'assegnazione del trofeo Banca Montepruno e altri prestigiosi premi ascoltiamo le interviste realizzate questa mattina in occasione proprio della giornata dedicata al concorso enogastronomico promosso dall'Ipseo insieme all'associazione Cuochi Salernitani con il contributo della Banca Montepruno vediamo sono onorato di avere qui dei professionisti prestigiosi della regione Campania e poi degli chef veramente tra i più quotati della regione Campania facciamo tutto questo per i nostri allievi per dare loro orizzonti mentali più vasti per dare loro delle chance delle opportunità lavorative future e ne siamo lieti siamo lietissimi io sono contentissimo di dar loro quanto il massimo e cerco veramente disperatamente di far sì che questi giovani allievi possano inserirsi nel miglior modo professionalmente parlando spero che quanto si stia seminando abbia i frutti ci auguriamo tutti nell'interesse dei nostri meravigliosi allievi è veramente un'equip molto molto valida di chef stellati che abbiamo stamattina e quindi loro possono porre tutte le domande che vogliono senza altro lo staff risponde alle domande degli allievi e quindi credo che sia un sodalizio importantissimo questo il filo conduttore di questa giornata è la valorizzazione dei prodotti del territorio dell'agricoltura e della zootecnia questo si coniuga in modo eccellente con le professionalità dell'enogastronomia cioè un prodotto dell'agricoltura della zootecnia viene messo nelle mani diciamo della professionalità dei cuochi per dare un senso un filo conduttore continuo tra la coltivazione la valorizzazione e la presentazione alla clientela questo è il sinonimo dell'economia di questo luogo ma io penso di tutta la regione Campania anche perché noi torniamo a Sant'Arsenio per la seconda predizione che non è provinciale come due anni fa ma è regionale questa è stata un'ottima iniziativa diciamo non è nuova qui soprattutto con questo istituto perché nel momento del convegno ho fatto proprio i complimenti a tutta l'organizzazione che è uno dei pochi a dare un'attenzione particolare proprio alla storia dei prodotti nostri io mi occupo di questo da un po' di tempo mi sono dato alla ricerca di capire dietro per esempio ad un semplice piatto nostro le lagane cosa ci sta e nel fare le ricerche ci ho trovato attraverso soprattutto la letteratura perché io vengo da quel campo ho trovato per esempio da Orazio da Varrone eccetera che parlano di questo piatto semplice ma presentarlo in una maniera anche letteraria acquista già un valore da un punto di vista anche di marketing quindi di di promozione del prodotto oggi ho trattato qui l'elemento delle tre piante sacre che sono alla base dell'alimentazione mediterranea e oggi la dieta mediterranea e sono i pane vino ed olio e quindi oggi abbiamo dato proprio un escursus attraverso proprio l'elemento storico letterario e anche mitologico vediamo il mito che dietro a un semplice prodotto e quindi recuperando anche questo patrimonio penso che si dia più valore al nostro territorio e ai nostri prodotti che arrivano da lontanissimo e apriamo ora la pagina sportiva occupandoci della prima categoria ottava giornata di campionato che regala un rotondo successo al Sassano in vetta la Gregoriana allunga mentre sono sconfitte mentre tornano sconfitte da questa fine settimana di calcio la Pollese e il Certosa di Padula vediamo nel campionato di prima categoria Girone G prosegue la marcia e in vetta la classifica della Gregoriana che approfittando del turno di riposo del Cicerale allunga più 4 e consolida il primato la formazione di Mr. Menza ha non poche difficoltà nel match casalingo contro il Rofrano ma alla fine vince 2 a 1 nel primo tempo aprono le marcature Troiano e Moscato nella ripresa il rigore di Speranza illude gli ospiti ritorna al successo interno anche il Sassano che contro l'Acquavella sbriga la pratica con estrema facilità la formazione di Mr. Camarano vince 4 a 1 vincuso sugli scudi autore di una doppietta per la formazione di Patrona Ricciardone che si posiziona in zona playoff male invece le altre valdianesi la pollese CECAO dalla trasferta sul campo del New Massa che si impone all'inglese grazie alle marcature di Merola e Sant'Angelo dopo aver chiuso il primo tempo in parità di misura invece la sconfitta del Certoso di Padula in casa del Real Agropoli decide il gol di Sica al ventesimo del primo tempo invece 2 a 2 tra Real Palomonte e ASD Procoliano in quello che era il match clou di questo turno ora per le formazioni di prima categoria si apre la finestra di mercato dicembrina che sarà importante per capire chi si rinforzerà e chi si indebolirà solo a gennaio sapremo i reali valori delle squadre che andranno a contendersi la vittoria del torneo e la permanenza nella terzo campionato regionale e vediamo ora i risultati delle squadre valdianesi che militano nei campionati di seconda e terza categoria nel campionato di seconda categoria girone L si è disputato lo scorso fine settimana la sesta giornata della girone d'andata in vetta la classifica resta la Samurese che di misura 2 a 1 batte Lentiscosa insegue l'Elea Virtus Corsara in casa dell'Evelina e il ProAtena la formazione valdianese davanti al proprio pubblico vince 4 a 2 contro l'Atletico Caselle sotto di un gol i ragazzi di Mister Romano reagiscono e trovano in curcio l'eroe di giornata autore di un poker che rende inutile il gol del momentaneo 3 a 2 di Pellegrino con questo successo il ProAtena si porta a meno 4 dalla vetta vittoria anche per l'altra valdianese l'Atletico Montesano che rifila un 0 a 3 al Foria Futani decidono i gol di Cardinale Ferro e Russo nel campionato di terza categoria girone D nella settimana in cui i Black Lions osservano un turno di riposo arriva il secondo pareggio consecutivo per il Monte San Giacomo che blocca la Buccinese davanti al proprio pubblico con il punteggio di 1 a 1 male il Real per Tosa sconfitto 4 a 2 a Roscigno mentre non si gioca il derby tra Sassano e Real Bianca nel girone F invece resta solo in vetta la classifica il buon abitacolo Soccer che batte 3 a 1 il CV Sport davanti al proprio pubblico e resta a punteggio pieno dopo tre giornate la formazione di Elio Giasi e prima anche alla voce gol fatti e gol subiti e con la pagina sportiva curata dal nostro Giuseppe Opromolla chiudiamo questo TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti